Atmosfera festosa questa mattina a Custonaci per la riapertura dell'asilo nido, una struttura chiusa negli ultimi anni e oggi riconsegnata alla comunità, grazie anche alla fattiva collaborazione dei cittadini che hanno manualmente contribuito all'abbellimento della struttura. Oggi per Custonaci è un giorno particolarmente importante, io ringrazio l'assessore Scavone per questa sua particolare sensibilità che è venuta ad inaugurare l'apertura di questo nostro asilo nido. È vero, da un po' di anni era chiuso, abbiamo fatto di tutto, tutto il nostro impegno, tutta l'amministrazione, i nostri uffici per raggiungere questo obiettivo, perché era un impegno che avevamo, perché riteniamo che l'asilo nido sia un servizio sociale essenziale di primaria importanza per le nostre famiglie. Quindi raggiungiamo davvero un obiettivo, grazie a tutti, grazie a tutta la Giunta che si è impegnata e tutti i dipendenti comunali che ci hanno aiutato, tante famiglie, tanti volontari che hanno reso più bello questo asilo. Davvero una partecipazione, io fino a stamattina vedevo famiglie, giovani e meno giovani che lavoravano per migliorare l'aspetto del nostro asilo, questo è un fatto molto importante. Sull'attenzione concretamente espressa dal governo regionale nei confronti delle famiglie siciliane si è espresso l'assessore Scavone. Abbiamo fatto un grande programma di investimento, oltre 25 milioni di euro per le strutture pubbliche, cioè per i comuni, oltre 20 milioni di euro a sostegno della realtà privata e 7 più 4 milioni di euro che abbiamo ottenuto proprio per questa condizione dal Ministero per consentire l'abbassamento delle rette, l'apertura degli asili nido, l'aumento numerico e qualitativo dell'attività. Perché a Custonaci? A Custonaci perché tra i tanti comuni che abbiamo finanziato, questo piccolo comune della Sicilia ha dimostrato di essere, abbiamo trovato un terreno fertile, una popolazione che ha partecipato all'apertura dell'asilo, che viene aperto tempestivamente. Non meno importante, è stato sottolineato dall'assessore comunale il rapporto con le famiglie che hanno già iscritto 15 bambini in una struttura che potrà ospitarne fino a 29. Questa amministrazione è una prerogativa, quello di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini e quello che stiamo facendo nella nostra cittadina è proprio di creare questo movimento osmotico tra l'amministrazione e i cittadini. Belle energie si stanno muovendo, tanti genitori, tanti volontari che vengono, infatti se oggi è così bello il nostro asilo nido è grazie alla loro presenza. Grazie a tutti.